Si è appena conclusa una conferenza stampa qui all'aeroporto Pio, alla torre di Comiso, perché da lunedì ripartiranno i voli con la nuova società Aeroitalia. Dunque è stata presentata la società, la comunità ragusana, ma anche quelli che saranno i voli da e per Comiso. Un grande inizio, un punto di partenza che sperano, dicono, dalla società, soltanto essere l'inizio e costituire un grande investimento. Vi lascio appunto alle interviste in cui vengono spiegati tutti i dettagli. Noi stimiamo di raggiungere velocemente un load factor che ci consente di mantenere l'equilibrio economico. Speriamo di farcela. È chiaro che è stata un'operazione strutturata in maniera veloce, quindi rischiosa, come tutte le operazioni strutturate in maniera veloce. Ma se il pubblico, i passeggeri di quest'area, comprenderanno il nostro sforzo e ci aiuteranno, io penso che può venire fuori una bella operazione. Come puoi vedere sono tante le perplessità che ancora si percepiscono e respirano. Lei pensa che già dalla prossima settimana però troveranno, insomma, secondo quello che ho sentito io, i fatti rispetto ai dubbi? Ma i fatti sono che noi inizieremo le operazioni la prossima settimana. Le vendite stanno cominciando a salire e speriamo che tutto funzioni. Siamo riusciti a dimostrare che nessuno può ricattarci e che le soluzioni vanno cercate e per fortuna l'abbiamo trovata in tempi rapidi. Quindi per noi Comiso non è un peso ma è parte integrante della SAC a cui abbiamo il dovere di dare risposte in tempi adeguati. E allora le chiedo, i ragusani possono tranquillizzarsi? Perché insomma qui c'è stato un accesso di battito, lei lo saprà meglio di me. Sì, c'è stato un dibattito molto acceso ma mi sembra che noi siamo intervenuti adeguatamente e posso rassicurare il territorio che ormai la macchina è in moto, quindi il traguardo si raggiungerà. Facciamo il punto, quale sono le ultime per l'aeroporto di Comiso? Ma da lunedì si ritorna a volare con questa nuova compagnia che ha dimostrato già di essere una compagnia affidabile con un 97% di puntualità per quanto riguarda la continuità che fanno per la Sardegna. Questa nuova compagnia terrà l'aereo basato su Comiso, quindi sarà possibile partire già dalle 7 di mattina col primo volo e farà 6 volte la settimana su Roma, 4 volte la settimana su Bergamo e 3 volte la settimana su Bologna. Inoltre è possibile andare in prosecuzione per tratte per la Sardegna, quindi con stop su Roma e poi proseguire per la Sardegna come proseguire per Bergamo e come proseguire per delle rotte estere che sono la Romania, Bacau e Bucarest. Questo è solo l'inizio, ci auguriamo che la cacciamentaria della provincia di Ragusa ritorni a volare con forza anche da questo aeroporto. Quindi mi pare di capire, i collegamenti ci sono, ma si parla di costi alti, lei a riguardo può chiarire? Assolutamente no, ora ci sarà il delegato della compagnia che chiarirà meglio, però i costi che stanno vendendo sono costi competitivi, io non ho visto questi prezzi alti perché 39,90 per andare a Roma non lo considero un prezzo alto, così come quello che ho visto io intorno ai 70 euro per andare a Bergo non mi sembra un prezzo alto. Per questo faccio un invoco al territorio per dire stiamo attenti a non dare delle fake news e farci del male noi stessi, prima utilizziamo la compagnia, vediamo con quali prezzi fanno e poi casomai critichiamo, ma avere dei preconcetti mi sembra assurdo in un territorio che deve aiutare l'aeroporto di Comiso. È tutto pronto quindi per Comiso? La stagione turistica è tutto ok? Lunedì inaugureremo questo nuovo collegamento con Roma che avrà frequenza, come immagino già sappiate, con tre voli giornalieri con l'obiettivo di collegare il resto del network della compagnia Comiso, dunque poter servire quest'area anche con destinazioni che sono quelle sarde dove operiamo in continuità territoriale con gli scali di Olbia e di Alghero, la Romania, dove vogliamo Subacau e Bucarest e Milano Bergamo. È solo un punto di inizio questo? Assolutamente sì, la compagnia è giovane, abbiamo recentemente compiuto un anno, è fatta da persone che hanno grande esperienza in questo settore, in un momento difficile per l'aviazione commerciale in Italia ci sono spazi importanti e cerchiamo di fare del nostro meglio per servire i passeggeri nel modo migliore possibile. Vi aspettate grandi numeri qui a Comiso? Ci aspettiamo numeri importanti durante l'estate, sapete meglio di me che qui ci sono una serie di strutture turistiche che sono in grado di attrare numeri importanti, diciamo anche che c'è una logistica che rende non particolarmente confortevole l'uso di altri scali, per cui sì, ci aspettiamo che il volo abbia un buon successo. C'è il piacere di presentare più che una rotta, una nuova compagnia che ha deciso di investire su questo scalo che per noi è fondamentale e strategico, quindi per questo abbiamo ringraziato e continueremo a farlo in triere la sua azienda, speriamo che possano aggiungere voli e trovare piena soddisfazione in quelle che sono le rotte che si avviano da Comiso. A queste nel breve futuro mi auguro se ne aggiungeranno altre con altre compagnie, sperando che ci siano altri segnali importanti su questo territorio. Tre rotte, purtroppo ne sono venute meno sei dall'abbandono di Ryanair, speriamo di avere novità positive sia da Aeroitalia che da altre compagnie che la società di gestione ha detto immediatamente di aver contattato. È chiaro ormai a tutti, anche dalla lettera aperta dell'amministratore unico delegato di Aeroitalia che ho avuto modo di leggere approfonditamente, che quanto io sospettavo e dicevo, cioè che l'eccessivo monopolio dato a una sola compagnia non va bene a nessun aeroporto, soprattutto agli aeroporti minori è ormai acclarato per tutti e quindi ci dobbiamo muovere verso l'apertura massima a quante più compagnie vogliano scoprire questo aeroscalo e in particolare la Sicilia sudorientale.